Allora, stasera fratelli e sorelle del Signore vorrei parlarvi di alcune cose che riguardano Cornelio, la sua conversione e quello che gli è successo. Quindi dobbiamo andare a leggere, dobbiamo aprire la nostra Bibbia al capitolo 10 dei Atti degli Apostoli. Leggiamo alcuni versetti e poi vi parlerò di alcune cose. 10.1 Atti Or vera in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della corte detta l'Italica, il quale era pio e temente il Dio con tutta la sua casa e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona, del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose Che vè, Signore? E l'angelo gli disse Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare un certo Simone che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone coiaio che ha la casa presso al mare. E come l'angelo che gli parlava se ne fu partito, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli che si tenevano del continuo presso di lui. E raccontata loro ogni cosa li mandò a Ioppe. Questa è la prima parte che volevo esaminare con voi. Cosa accadde? Cornelio era un centurione, quindi non era di religione, non era diciamo di discendenza ebraica, non faceva parte del popolo ebraico, era un gentile. Ora, gli ebrei non avevano contatti con i gentili e almeno sotto la legge di Mosè non avevano contatti con i gentili. il Signore scelse Cornelio perché era stato predestinato ad essere salvato. Cosa ha fatto Cornelio? Cornelio faceva, vedete, la parola di Dio parla di Cornelio e anche della sua famiglia, ne parla in maniera positiva, cioè come sentimenti e come opere di Cornelio la parola di Dio ne parla in maniera positiva. Però Cornelio, attenzione, né Cornelio né quelli della sua famiglia erano salvati, capite? Non erano salvati. Cosa comprendiamo da questo? Comprendiamo quello che la scrittura poi ci insegna in altre parti, cioè che non si ottiene la salvezza per mezzo delle opere, ma la salvezza si ottiene solamente mediante il credere al messaggio dell'Evangelo che riguarda Gesù Cristo, cioè che Cristo Gesù è morto per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato. Quindi si viene salvati solamente per fede. Quindi se qualcuno si presenta a noi e parla di una possibile salvezza per opere, ecco, noi gli mostriamo Cornelio e gli dimostriamo guarda che Cornelio che faceva delle opere buone. Attenzione, Dio ne parla bene di Cornelio, cioè le preghiere che di continuo faceva Cornelio, le sue lemosine, era Pio, temeva Dio, quindi era una cosa che anche i suoi sentimenti volgevano verso Dio. Però Cornelio non era salvato per quelle opere. Cosa è successo? È successo che Dio ha deciso di salvarlo. E per salvarlo, perché la salvezza si ottiene per mezzo della fede, gli ha mandato un angelo affinché gli parlasse e gli dicesse di andare a chiamare Pietro. Perché gli ha mandato un angelo per... e quest'angelo, guardate bene, conferma il fatto che la parola ne ha parlato bene. Infatti dice, infatti l'angelo gli dice, le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Quindi, chi fa il bene, attenzione, sono cose... cioè, chi fa il bene con tutto il cuore, sono sempre opere buone davanti a Dio, non è che sono opere cattive. Solamente che le opere non servono, non sono, diciamo, non sono utili per ottenere la salvezza. Capite? Cioè, attraverso le opere non si può ottenere la salvezza. Però certamente, vedendo che aveva, che aveva, che compiva quelle opere Cornelio, il Signore gli mandò un angelo. Guardate bene, tutto questo è stato possibile, è stato fatto perché? Perché comunque il Dio aveva preordinato a vita eterna anche Cornelio. Quindi questo passaggio è stato scritto in questa maniera per farci capire, per confermare che la salvezza non si ottiene mediante le opere, ma la salvezza si ottiene soltanto mediante la fede, la fede nel messaggio dell'Evangelo. Quindi noi possiamo utilizzare, diciamo, la conversione di Cornelio per dimostrare a tutti che la salvezza non si ottiene mediante le opere, perché altrimenti era già salvato, no? Se Dio lo loda per le opere. Però manda un angelo a dirgli di far chiamare Pietro che gli avrebbe annunziato l'Evangelo e per quel messaggio lui dopo con la sua casa si è convertito, si capisce bene chiaramente che non sono le opere che salvano, ma è la fede nell'Evangelo. Capite? È la fede. Quindi possiamo, da quello che è scritto nel racconto che riguarda Cornelio, tra le diverse cose comprendiamo questo, che si viene salvati per fede e non per opere. Naturalmente dalla somma della parola noi sappiamo che si viene salvati solamente se si è scritti nel libro della vita, capite? Però in questo caso la parola è esposta in questa maniera per darci quegli altri significati, cioè che la salvezza si ottiene per fede e non per opere. Cosa succede? Quindi abbiamo visto che l'angelo gli appare. Voglio farvi notare anche questo. Vedete? Dio ha mandato un angelo a parlare a Cornelio che non era convertito. Quindi ciò che è stato scritto per quel tempo può accadere ancora oggi, cioè ancora oggi può accadere che Dio mandi un angelo a parlare a qualcuno, capite? Quindi oltre la situazione di Cornelio noi vediamo in questi passaggi come Dio ha operato per portare Cornelio e la sua famiglia alla salvezza, capite? Perché Dio che ha operato? Cornelio faceva delle opere, ma se dipendeva da Cornelio, se nessuno gli parlava dell'Evangelo, solo le opere non sarebbero state sufficienti per ottenere la salvezza. Quindi ci voleva qualcuno che gli annunziasse l'Evangelo. E siccome Dio aveva stabilito, ha prestabilito di salvare, lui e anche la sua casa, come leggeremo dopo, ha prestabilito di salvarle e quindi ha fatto in maniera che qualcuno gli portasse il messaggio dell'Evangelo. E quindi ha mandato un angelo. Vedete quindi cosa comprendiamo da questo? Che il Dio quando vuole darti un messaggio, quando vuole mandare un messaggio può farlo anche in questa maniera, cioè mandandoti un angelo a parlarti. In questo caso non era credente. Quindi il Dio può ancora oggi, perché quello che è scritto lì, che è avvenuto allora, può avvenire ancora oggi. Non è che oggi non avvengono più queste cose. E tutte queste cose sono scritte per nostro ammaestramento. Quindi dobbiamo crederci, dobbiamo avere fede in queste cose. Poi se non sempre il Dio ha mandato un angelo, quella è un'altra cosa. Il Dio stabilisce lui cosa deve fare. Però noi siamo chiamati, siamo chiamati da lui a credere a quello che sta scritto. Capite? Perché mentre leggiamo un passaggio il Signore lo vede se noi ci crediamo oppure no. Quindi quando leggiamo le scritture dobbiamo credere in quello che sta scritto. E qui dobbiamo credere che Dio, quelli che vuole salvare, li salva. Può mandare anche i suoi angeli a parlare a quella persona. Però attenzione, l'angelo non è che aveva l'incarico di annunziargli l'Evangelo. Infatti l'angelo non gli ha annunziato l'Evangelo. Gli ha annunziato il messaggio. Un determinato messaggio che Dio aveva stabilito. Che è quello di far chiamare Pietro. Perché? Perché a Pietro era stata affidato il compito, non solo a lui, ma anche a Pietro era stato affidato il compito di annunziare l'Evangelo della grazia. Affinché chiunque crede in quel messaggio viene salvato. Quindi vedete, era stato, infatti Pietro è stato costituito apostolo. È stato inviato da Dio per annunziare l'Evangelo. E questo angelo gli ha detto delle cose anche particolareggiate. Quindi cosa vediamo? Il messaggio, il messaggio di Dio è perfettamente dettagliato. Che è una cosa, questi dettagli, cioè gli ha detto, guardate cosa gli dice l'angelo, gli dice, manda degli uomini a Iope, fa chiamare un certo Simone che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone coiaio che ha la casa presso al mare. Cioè gli sta dando l'indirizzo preciso, capite? Cioè l'angelo parla a Cornelio con molti dettagli e precisione. È una rivelazione, capite? È una grande rivelazione che Dio ha dato a questo uomo. Gli ha dato quindi anche un segno, vedete, un segno della potenza di Dio, della esistenza di Dio. Però ancora, anche avendo visto quell'angelo, Cornelio non era salvato perché Cornelio è stato salvato dopo. Quando viene Pietro, gli annunzia l'Evangelo, allora Cornelio e anche la sua casa si convertono, ma solo dopo il messaggio. Ripponendo la loro fede in Dio, nel messaggio, credendo al messaggio di Pietro, si sono convertiti. Però vedete come Dio ha operato con quell'angelo? Questa rivelazione è piena di dettagli, vedete? Infatti le rivelazioni di Dio non possono essere prive di dettaglio. Questo ci serve, vedete? Ci serve, queste rivelazioni che Dio ha dato, ci serve per capire come Dio parla agli uomini quando parla direttamente. E parla in maniera precisa, la comunicazione è completa ed è anche piena di dettagli. Non è soltanto composta da determinate cose come dire, ah, ho visto un leone, ho visto un'ombra nera, ho visto... Capite? I messaggi, le rivelazioni di Dio sono complesse. Hanno, diciamo, un loro linguaggio e un loro significato ben preciso, capite? Quindi quando vi dicono qualcosa che non ha dettagli, insomma, voi chiedete conferma a Dio, perché noi ci crediamo, attenzione, alle rivelazioni di Dio, ai messaggi che gli angeli ci possono dare. Però se non siamo convinti, possiamo, o sono cose molto importanti per la nostra vita o per la vita di altri, è bene chiedere conferma. Sarebbe bene chiedere conferma al Signore che ci confermasse se è quello che ci è stato rivelato, ci è stato detto, è vero oppure no. Questo ci serve per proteggerci, ragionare in questa maniera e chiedere conferma, ci serve per proteggerci dalle false rivelazioni. Perché non è che ci sono solo le vere rivelazioni in mezzo alla Chiesa, ma ci sono anche, purtroppo, ci sono anche molte false rivelazioni che possono ingannare i fratelli e le sorelle, li possono far fare qualcosa che può distruggerli, capite? Li può distruggere, sicuramente li può turbare, li porta a stare male e se magari compiono quello che dice la falsa rivelazione possono trovarsi nei guai grossi. Vi faccio un esempio, se viene uno che si definisce profeta, dice ho avuto una rivelazione, tu ti devi sposare quella sorella o quel fratello e questi obbediscono senza mettere in discussione la cosa e si sposano e non è Dio che lo ha mandato quel profeta, questi si trovano sposati e magari poi divorziano, non si vogliono mai, non si vogliono bene, si lasciano e si sono rovinati per tutta la vita, capite? Guardate bene, vi ho fatto un esempio che è realmente successo, non è che un falso profeta ha detto a due persone che il Signore gli aveva rivelato che erano marito e moglie, in quel caso specifico questi si sono frequentati ma non si sono sposati grazie a Dio perché non era assorto l'affetto, l'amore tra di loro e quindi hanno capito che non era da Dio quella rivelazione, quindi vedete da una parte leggiamo le scritture e vediamo che sono piene di rivelazioni di Dio e ci dobbiamo credere, è importante questo, però dall'altra parte dobbiamo essere prudenti e sì perché non è che possiamo credere a tutto quello che si dice in giro, dobbiamo essere prudenti quindi dobbiamo prepararci anche a difenderci dalle false rivelazioni, perché anche se ci sono le false rivelazioni non è che dobbiamo rinunciare, rifiutare di credere alla parola di Dio, capite? Perché le false rivelazioni ti mettono alla prova, ti mettono alla prova se sei un credulone. Essere credenti è diverso da essere creduloni, il credente crede in tutta la parola di Dio senza dubitare di nulla, il credulone crede a tutte le parole che dicono gli uomini e noi dobbiamo essere credenti e non creduloni, capite? Dobbiamo credere in Dio, a tutto quello che lui ci dice, ci ha detto e che è scritto, ma non a tutte le parole che dicono gli uomini, anche se si fingono portatori di un messaggio da parte di Dio, capite? Addirittura voi sapete che è scritto che anche Satana si traveste da angelo di luce e potrebbe portare dei falsi messaggi, capite? E quindi bisogna stare attenti, quindi chiedere conferma diretta a Dio se c'è qualcosa che non ci convince, capite? O se è molto importante dobbiamo chiedere conferme a Dio. Quindi abbiamo visto che la salvezza si ottiene per fede, che Dio manda i suoi angeli per portare determinati messaggi, ma non solo il Dio ha mandato un messaggero per Cornelio, ma addirittura, adesso continuiamo a leggere, il Dio dà una rivelazione anche a Pietro, che si trovava da Simone il Cogliaio. E leggiamo la parte adesso dalle scritture che riguarda il pezzo della visione che ha avuto Pietro. Dieci nove di atti. Or, il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta, che è mezzogiorno, per pregare. E avvenne che ebbe fame e desiderava prendere cibo. E come gliene preparavano fu rapito in estasi? E vide il cielo aperto e scenderne una certa cosa, simile a un gran lenzuolo, che, tenuto per i quattro capi, veniva calato in terra. In esso erano dei quadrupedi, dei rettili della terra, degli uccelli del cielo, di ogni specie. E una voce gli disse, levati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose, in nio modo, signore, perché io non ho mai mangiato nulla di immondo, né di contaminato. E una voce gli disse di nuovo, la seconda volta, le cose che Dio ha purificate, non le fare tu immonde. E questo avvenne per tre volte. E subito il lenzuolo fu tirato, ritirato in cielo. Da una parte abbiamo visto come Dio mandò un messaggero, un angelo, a parlare a Cornelio, che era gentile. Dall'altra il Dio dà una rivelazione a Pietro. Perché c'era bisogno di questa rivelazione? Di questa rivelazione che doveva ricevere Pietro ce n'era bisogno perché? Perché i giudei erano portati a non avere rapporti coi gentili, perché li consideravano contaminati. Capite? Così come non mangiavano dei cibi impuri, degli animali ritenuti impuri dalla legge, non li mangiavano per non contaminarsi. Capite? Da questa visione noi comprendiamo, vedete, la voce dell'Eterno dice, dice, tra le altre cose, le cose che Dio ha purificate, non le fare tu immonde. Capite? Perché in questa visione che Dio gli diede a Pietro, in questa visione vide tutti, tanti animali, anche di quelli impuri, immondi. Anzi, sicuramente erano tutti immondi per fargli comprendere determinate cose a Pietro. Cioè, gli ha ricordato, l'ha fatto riflettere sul fatto che Gesù disse, vi ricordate? Che non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo. Dicendo così fece tutti i cibi puri. Quindi, mentre prima, secondo, prima di Gesù la legge era in vigore, la legge per quanto riguarda i cibi puri e impuri, cioè c'erano dei cibi che il popolo di Dio poteva mangiare e altri cibi che non poteva mangiare per non contaminarsi, perché così Dio aveva stabilito. Da Gesù in poi, Gesù disse che non è un cibo che ti contamina. Quindi, dicendo in quella maniera, fece tutti i cibi puri. Quindi non c'era più distinzione tra cibi puri e impuri, come diceva la legge. Da Gesù in poi, tutti i cibi erano puri. Quei cibi rappresentavano, diciamo, anche il popolo di Israele e il popolo dei gentili, cioè il popolo che era puro, ritenuto, puro davanti a Dio, e il popolo dei gentili che era contaminato. Infatti, i giudei con i gentili non avevano dei grandi rapporti, anzi, non avevano nessun rapporto. Non si volevano contaminare con i gentili, perché erano dei senza Dio, capite? Non conoscevano la legge di Dio, non l'avevano studiata, non obbedivano e non osservavano. Quindi erano di natura contaminati, capito? Capite? Mentre i giudei già da piccolini gli veniva annunziata dalla nascita, venivano circoncisi, quindi facevano già parte, entravano già a far parte, in un certo modo, entravano, diciamo, dentro la volontà di Dio nell'osservanza della legge. Ma già con Gesù questo cambiò con i cibi e qui il Signore accosta, con questa visione data a Pietro, il Dio accosta i cibi puri e impuri, che non erano più così, lì accosta al rapporto che c'era tra i gentili e i giudei. Cioè non c'era più differenza tra i due popoli. Tutti e due erano stati fatti puri, sono puri, in Cristo Gesù naturalmente. Cioè dei due popoli, perché prima c'era la distinzione dei due popoli, il popolo di Israele, il popolo di Dio eletto, e il popolo dei gentili. C'era questa distinzione, questa differenza. E il popolo giudaico, il popolo di Israele, i giudei non volevano avere rapporti con i gentili per non contaminarsi. Quindi nella visione, Dio sta convincendo Pietro che doveva andare a casa praticamente dei giudei e di non farsene scrupolo. Capite? Scusate, che Pietro doveva andare a casa dei gentili e non se ne doveva fare alcuno scrupolo. Perché Dio aveva fatto puri cibi e aveva fatto pure anche il popolo, anche i gentili. Dei due popoli che è stato fatto un popolo soltanto, lo leggiamo in Efesini. Lo leggiamo al capitolo 2, al capitolo 2 di Efesini. Leggiamo dal versetto 13, 2,13 di Efesini. Leggiamo queste parole. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Vedete, qui Paolo dice agli Efesini, che erano gentili, gli dice voi eravate lontani. Quando la parla di quelli popoli che sono vicini e quelli che sono lontani, il punto di riferimento è Dio. Chi era quel popolo che era vicino a Dio? Era naturalmente il popolo di Israele. E chi erano quei popoli o quel popolo in generale che erano lontani da Dio, quindi lontani e vicini? I popoli lontani erano i gentili e gli Efesini erano un popolo di gentili. Ma Paolo gli spiega qua. Ora, capite, ora, in Cristo Gesù, capite, in Cristo, voi eravate prima lontani, cioè prima eravate lontani. Ma in Cristo, da quando vi siete convertiti, siete diventati un popolo unico anche con i giudei, quelli che hanno creduto. Adesso quelli lontani non sono più, non sono più da considerare i gentili, capite, per discendenza carnale. No, adesso quelli lontani da Dio sono da considerare quelli che non hanno creduto, indipendentemente se sono giudei o gentili. Quindi, vedete, dei due popoli, alla fine, ne è stato fatto uno solo. E' mediante Cristo Gesù. Ciò è stato possibile mediante Cristo Gesù, mediante lo spargimento di sangue sulla croce di Gesù Cristo. E ancora, in Efesini, Paolo continua, poiché è lui che è la nostra pace, cioè Gesù Cristo. Lui che dei due popoli, vedete, due popoli, cioè gentili e giudei. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia. La legge fatta di comandamenti in forma di precetti affin di creare in se stesso dei due un solo uomo, un solo uomo nuovo, facendo la pace, ed affin di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce sulla quale fece morire l'inimicizia loro. E con la sua venuta ha annunziato la buona novella della pace a voi che eravate lontani e della pace a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Vedete, qui Paolo spiega ai gentili, ma dovrebbe servire anche ai giudei questa spiegazione, che dei due popoli il Dio ne ha fatto uno solo, cioè siamo stati riconciliati nel corpo di Cristo, abbiamo trovato pace noi gentili, nella stessa maniera come trovano pace e vengono riconciliati i giudei nel corpo di Cristo Gesù. Quindi vedete, nell'opera salvifica che compie Gesù Cristo non c'è più differenza tra i gentili e i giudei. Non è che siccome sono discendenti secondo la carne del popolo eletto godono di un beneficio nella salvezza superiore a quella dei gentili, no? La salvezza è uguale sia per i giudei che per i gentili, non c'è differenza. In Cristo si diventa uno solo, nello spirito di Dio, perché lo spirito santo che ricevono i giudei per ottenere la salvezza è lo stesso spirito santo che ricevono anche i gentili per essere salvati. E tutto questo avviene per mezzo della fede in Cristo Gesù, in Cristo Gesù che ha dato la sua vita per salvare sia i giudei che i gentili. Capite? Quindi vedete quindi come è confermato dalla parola di Dio che ora non ci sono più distinzioni tra i due popoli, ma il popolo è uno solo in Cristo Gesù, perché si viene salvati sia i giudei che i gentili nella stessa maniera, non c'è differenza o distinzione. Questo concetto, ora torniamo alla visione che ha avuto Pietro, questo concetto lo ha esposto direttamente il Dio per farlo capire a Pietro, perché doveva, lo stava preparando per mandarlo ad evangelizzare a casa dei gentili. Capite? Quindi non doveva avere problemi, non doveva avere alcun problema. Cosa succede? Succede che, per continuare, queste persone che Cornelio ha mandato a chiamare a chiamare a Pietro, mentre Pietro aveva, rifletteva su quella visione, perché aveva bisogno di un po' di tempo per assimilarla. Capite? Non è che le cose magari si capiscono tutte subito, ci vuole anche un po' di tempo. Allora Pietro pensava a quella visione. Poi vennero delle persone a chiamarlo e al versetto 10-19 di Atti è scritto e come Pietro stava pensando alla visione lo Spirito gli disse, vedete, lo Spirito Santo gli parlò a Pietro e gli disse ecco tre uomini che ti cercano levati dunque, scendi e va con loro senza fartene scruppolo perché sono io che li ho mandati, era lo Spirito Santo che li ha mandati, vedete e Pietro scese verso quegli uomini disse loro, ecco io sono quello che cercate e poi dopo li seguì capite? Pietro andò con queste persone e arrivò dopo che arrivò a casa di Cornelio avvenne, leggiamo quello che è successo andiamo adesso a leggere la seconda parte del versetto 23 che dice 10-23 di Atti e il giorno e il giorno seguente andò con loro e alcuni dei fratelli di Ioppe l'accompagnarono e il giorno di poi entrarono in Cesarea or Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi intimi amici e come Pietro entrava Cornelio fatto gli sincontro gli si gettò ai piedi e l'adorò ma Pietro lo rialzò dicendo levati anch'io sono uomo vedete questo passaggio si parla di Pietro Cornelio che quando lo incontrò che lo riteneva una persona importante che Dio gli mandò era così devoto Pietro che fece e scusate Cornelio nei confronti di Pietro che fece anche una cosa che non doveva fare infatti si chinò si prostrò davanti a lui e lo adorò capite ma Pietro cosa ha fatto lo ha lo ha alzato dicendogli levati anch'io sono uomo ecco questo passaggio ci potrebbe servire da citare ai cattolici che creano nei confronti del Papa dei Santi e di Pietro anche una forma di adorazione di servizio una forma di adorazione di servizio che Pietro ha vietato gli ha detto a Cornelio no anch'io sono uomo cioè tu voleva dire tu devi adorare il creatore non la creatura capite infatti noi dobbiamo adorare il creatore soltanto soltanto Dio va adorato non possiamo adorare le creature mortali che Dio ha creato capite non possono essere adorate è vietato da Dio è vietato dalla volontà di Dio dalla parola di Dio è vietato adorare le creature noi dobbiamo adorare solamente il Dio capite i Dio padre e anche i Dio figlio vanno adorati tranne lo spirito santo perché non troviamo nessun passaggio della scrittura dove si viene adorato lo spirito santo dove viene cantato allo spirito dove viene invocato lo spirito direttamente capite quindi non c'è questo insegnamento perché perché lo spirito è dentro gli uomini insieme al loro spirito allo spirito dell'uomo lo spirito di Dio che è dentro gli uomini insieme adorano Gesù Cristo glorificano Gesù Cristo e glorificano il padre capite quindi non glorifica perché è scritto che lo spirito santo non glorifica se stesso ma lo spirito santo glorifica Gesù Cristo e glorifica anche il padre capite e quindi abbiamo visto che Pietro si è presentato a casa di Cornelio ora cosa dice come continua la parola dice e discorrendo con lui entrò e trovò molti radunati qui e disse loro voi sapete vedete lo spiega anche Pietro adesso spiega quello che lui ha capito di quella visione che Dio gli ha dato lo spiega direttamente lui capite e dice così voi sapete come non sia lecito ad un giudeo di avere relazioni con uno straniero o di entrare da lui ma Dio mi ha mostrato Dio mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato vedete la visione che Dio aveva dato a Pietro aveva questo significato che benché Pietro sapeva che i giudei non avevano relazione con gli estranei con i gentili praticamente però Dio gli aveva mostrato attraverso quella visione che non doveva chiamare nessun uomo immondo o contaminato capite quindi non c'era più quella distinzione tra giudei e gentili dei due popoli il Dio ne aveva fatto uno e questo l'aveva capito Pietro c'è da dire ecco apriamo una parentesi sempre collegata però a questo argomento c'è da dire che benché il Dio vedete come a volte gli uomini anche gli apostoli gli uomini a volte sono duri di cuore e quello che hanno imparato poi arriva un momento arrivano dei momenti nella loro vita che a volte non se lo ricordano infatti in Galati in Galati leggiamo in Galati leggiamo che praticamente Pietro commise proprio questo tipo di peccato fece di nuovo distinzione tra gli uomini cosa che Dio gli aveva rivelato di non fare infatti al capitolo 2 di Galati dal versetto 11 leggiamo ma quando Cefa fu venuto ad Antiochia io gli resistei in faccia perché gli era da condannare di fatti prima che fossero venuti certuni provenienti da Giacomo egli mangiava coi gentili ma quando costoro furono arrivati egli prese a ritrarsi e a separarsi per timore di quelli della circoncisione e gli altri giudei si misero a simulare simulare vuol dire fingere a simulare anch'essi con lui tal che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro simulazione ma quando vedi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del vangelo io dissi a cefa in presenza di tutti se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica come mai costringi i gentili a giudaizzare capite capite aveva preso di nuovo in quel momento la debolezza si fece prendere dalla debolezza e per timore dice dei giudei praticamente si separò dai gentili mentre prima ci mangiava poi ha cominciato a un certo punto a non mangiare più con i gentili faceva di nuovo distinzione cosa che Dio gli aveva detto che non doveva fare vedete vedete anche le debolezze evidenzio questo per farvi capire anche le debolezze che gli apostoli che erano ripieni di potenza i servitori di Dio gli apostoli erano ripieni di potenza dello spirito santo cacciavano i demoni guarivano gli infermi ma avevano comunque delle debolezze perché erano comunque nella carne e così ancora oggi può avvenire a quelli che sono ripieni di spirito santo possono avere comunque delle debolezze badate bene quindi non è che sono perfetti cioè noi non è che desideriamo essere riempiti di potenza dello spirito santo ogni giorno per e così siamo perfettamente santi e non cadiamo mai no perché si può cadere anche essendo battezzati con lo spirito santo ad essere ripieni dello spirito santo si può cadere e Pietro era Paolo ha detto era da condannare il comportamento di Pietro era da condannare addirittura e l'ha dovuto riprendere in faccia a tutti quindi vedete la scrittura non nasconde nulla la scrittura fa vedere le grandi opere che Dio ha fatto attraverso le mani dei suoi servitori ma sempre la parola evidenzia anche le debolezze degli uomini capite perché dobbiamo sempre ricordarci che comunque siamo tutti uomini su questa terra fallaci uomini che sbagliano perché la carne ci può sospingere comunque a sbagliare quindi quindi dobbiamo considerare anche questo che è vero che abbiamo comunione con i fratelli però attenzione non dobbiamo considerare nessuno infallibile perché nessuno lo è capite e abbiamo visto quindi che Pietro adesso torniamo a Cornelio dopo aver evidenziato delle debolezze di Pietro sempre sullo stesso argomento sulla visione che Dio gli ha dato adesso torniamo a Cornelio che era a casa torniamo a Pietro quando era a casa di Cornelio ora cosa succede succede che si racconta una vicenda quello che è successo e poi Pietro comincia a parlargli ad annunziare l'Evangelo e lo leggiamo dal versetto 34 10 34 di Atti allora Pietro prendendo a parlare disse in verità io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole infatti infatti questo lo dico io non è scritto dopo continuiamo a leggere infatti quando la parola inizia a parlare di di Cornelio ne parla in maniera positiva però essere accettevole se fai un'opera buona non vuol dire essere salvati capite perché Cornelio è vero che le opere di Cornelio sono state accettate da Dio va bene così anche scritto ma non era ancora salvato perché non sono le opere che salvano capite certamente Dio gradisce le opere buone più ce ne sono meglio è da chiunque vengano compiute sono sempre opere buone non è che Dio disdegna le opere buone però le opere non hanno collegamento con la salvezza capite cioè noi come Cornelio come tutti quelli che sono stati salvati sono stati salvati solamente per fede sono stati rigenerati spiritualmente per mezzo della fede nell'Evangelo nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto per rimetterci i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato per la nostra giustificazione per aver creduto nell'Evangelo in questo Evangelo nell'Evangelo che annunziavano gli Apostoli per aver creduto in questo noi così come anche Cornelio siamo stati rigenerati spiritualmente nati di nuovo e questa nuova nascita che ci ha salvati non sono le opere che ci hanno salvato perché le opere non ci possono salvare le opere non possono salvare nessuno ma si viene salvati solamente per fe continuando adesso a leggere e questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo esso è il Signore di tutti voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni vale a dire la storia di Gesù di Nazareth come il Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza e come egli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché il Dio era con lui e noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatte nel paese dei Giudei e in Gerusalemme ed essi l'hanno ucciso appendendolo ad un legno esso ha il Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome ora vedete Paolo ha parlato di Gesù scusate Pietro ha parlato di Gesù a Cornelio gli ha parlato della sua morte di quello che lui aveva fatto che lo avevano ucciso ma ha parlato anche della sua risurrezione quindi vedete l'Evangelo è stato annunziato completamente anche che poi si è manifestato dopo risuscitato agli apostoli che aveva costituito vedete quindi Pietro ha annunziato l'Evangelo Cornelio e la sua e la sua famiglia voi sapete che abbiamo appena abbiamo detto in precedenza che si viene salvati credendo nel messaggio dell'Evangelo quindi a questo punto il messaggio dell'Evangelo è stato annunziato a Cornelio e a quelli della sua famiglia di quelli che erano lì presenti che ascoltavano quindi la salvezza si ottiene per fede il messaggio dell'Evangelo quindi l'Evangelo è stato annunziato cosa succede? a un certo punto succede questo al versetto 44 mentre Pietro parlava così lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio cioè praticamente cosa è avvenuto? Pietro gli aveva annunziato l'Evangelo loro hanno creduto nell'Evangelo ma non hanno ricevuto soltanto la nuova nascita la rigenerazione spirituale la salvezza dopo che hanno udito l'Evangelo e hanno creduto ma subito dopo quanto tempo si è passato dalla salvezza al riempimento di Spirito Santo al battesimo con lo Spirito Santo quanto tempo è passato? non sappiamo non sappiamo anche pochissimo tempo però è successo che hanno ascoltato l'Evangelo si sono convertiti e sono stati anche subito dopo la salvezza battezzati con lo Spirito Santo vedete? e cosa come si è manifestato come si è manifestato come si manifestò la discesa dello Spirito Santo sui circa 120 giudei quando si convertirono il giorno della Pentecoste quella discesa dello Spirito Santo il battesimo con lo Spirito Santo promesso dai profeti da Giovanni Battista da Gesù e anche dagli apostoli quella promessa dello Spirito Santo si manifesta attraverso mediante il parlare in altre lingue infatti qui dice che quei giudei che erano presenti lì si meravigliarono che parla che lo Spirito Santo scese e come lo capirono che lo Spirito Santo lo Spirito Santo scese sui su Cornelio e sulla sua famiglia che erano gentili lo capirono perché è scritto appunto li udivano parlare in altre lingue capite quindi qui è confermato vedete è confermato ancora che per essere battesati con lo Spirito Santo prima di tutto bisogna aver accettato l'Evangelo e qui ci sono tutti i presupposti perché l'Evangelo erano lì pronti ad ascoltare e attenti il messaggio che Pietro gli doveva dare e come abbiamo letto abbiamo visto che Pietro gli annunziò l'Evangelo e loro hanno creduto in quell'Evangelo erano predisposti a credere per tutto quello che accadde in precedenza ma non solo hanno ricevuto il battesimo non solo hanno ricevuto la salvezza e la nuova nascita ma sempre in quel in quei momenti hanno subito dopo la nuova nascita hanno anche ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo lo stesso attenzione essendo gentili hanno ricevuto lo stesso dono che avevano ricevuto i giudei il giorno della Pentecoste il dono è lo stesso è il medesimo per i gentili e per i giudei vedete è il medesimo dono infatti si meravigliarono i giudei vedete come c'erano quei pregiudizi la scrittura li presenta sempre questi pregiudizi perché è la realtà e c'erano cioè si meravigliarono che Dio diede lo stesso Spirito Santo che diede ai giudei il giorno della Pentecoste l'aveva dato anche l'aveva fatto scendere anche sopra i gentili si meravigliarono vedete come partono i giudei sempre ad avere dei pregiudizi questo ci serve saperlo perché le cose non sono cambiate se noi magari dovessimo conoscere dei giudei magari ci potrebbe essere non lo so perché io non conoscendo giudei non ho questa esperienza diretta però potrebbero esserci ancora dei pregiudizi ma nulla di strano perché la scrittura ce ne parla quindi quello che è avvenuto prima può accadere ancora ciò che accade oggi è già accaduto prima quindi vedete come il Signore ha anche battezzato con lo Spirito Santo il segno di questo battesimo con lo Spirito Santo erano le lingue sono ancora oggi le lingue capite parlare in altre lingue sconosciute a chi le parla poi furono battezzati furono battezzati Cornelio e la sua famiglia furono battezzati in acqua naturalmente furono battezzati in acqua nel nome del padre del figlio dello Spirito Santo come Gesù ha ordinato cioè anche se c'è scritto che furono battezzati nel nome di Gesù Cristo e che fa riferimento al battesimo stabilito da Gesù Cristo capite l'autorità di Gesù Cristo quello stabilito da Gesù non quello di Giovanni Battista non un altro ma quello di Gesù Cristo se noi andiamo a vedere all'ultimo capitolo di Matteo capitolo 28 lì c'è scritto l'ordine di come i discepoli avrebbero dovuto battezzare in acqua nel nome del padre del figlio e dello Spirito Santo e così oggi dobbiamo ancora noi battezzare le anime che si convertono vanno battezzate in acqua nel nome del padre del figlio e dello Spirito Santo mi approfitto qui per dire che se uno è stato battezzato soltanto nel nome di Gesù quel battesimo in acqua non è valido deve rifarlo nel nome del padre del figlio e dello Spirito Santo cosa è successo dopo è successo che Pietro Pietro salì a Gerusalemme a rendere conto trovò i giudei fratelli perché Gerusalemme è il centro dei giudei si trovò a dover spiegare cosa era successo e ancora qui si vedono dei pregiudizi sempre dei giudei con i gentili però Pietro gli ha dovuto spiegare ai credenti giudei gli ha dovuto spiegare come Dio aveva operato con i gentili capite perché praticamente in quel periodo c'erano questi grandi pregiudizi e queste testimonianze servivano per sciogliere questi nodi per eliminare questi scruppoli che i giudei avevano nei confronti dei gentili e Pietro fa un rapporto completo di quello che era successo perché doveva appunto insegnare perché quello che era accaduto a Cornelio e a Pietro c'erano dei grandi insegnamenti non solo per noi oggi ma c'erano dei grandi insegnamenti anche per i giudei di quell'epoca capite di quell'epoca e Pietro appunto ha esposto i fatti e ha detto e la scrittura lo espone in questa maniera così è scritto capitolo 11 di Atti degli Apostoli or gli Apostoli e i fratelli che erano per la Giudea intesero che i gentili avevano anch'essi ricevuto la parola di Dio e quando Pietro fu salito a Gerusalemme quelli della circoncisione questionavano con lui dicendo tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro vedete come ancora erano pieni di pregiudizi vedete e Dio attraverso tutto il messaggio che diede a Pietro tutto quello che è successo stava insegnando ai giudei a non avere più pregiudizi nei confronti dei gentili quindi vedete quante cose sono successe oltre alla salvezza di Cornelio sono successe tante cose tanti insegnamenti sono inclusi in questi capitoli dove si parla della salvezza di Cornelio e Pietro dice ma Pietro prese a raccontare loro le cose per ordine fin dal principio dicendo io ero nella città di Ioppe in preghiera e in un'estasi estasi apro una parentesi estasi vuol dire rapimento della mente cioè la mente viene rapita da Dio dallo Spirito Santo quindi la tua mente non è più presente non vede più non vive più nella realtà in cui si trova ad esempio Pietro nella terrazza non sta vivendo la sua realtà di quella terrazza ma essendo rapita in estasi cioè la mente rapita la mente rapita da Dio praticamente vive la realtà che Dio gli fa vivere gli fa vedere infatti Pietro essendogli stata entrando in estasi cioè entri in uno stato che non sei più presente in quella realtà che vivi lì ma vivi un'altra situazione quella situazione che Dio ti fa vedere una visione capite quando si hanno visioni avviene in questa maniera cioè la tua mente si distacca dal contatto con la realtà e vive in un altro stato in un'altra realtà quella che Dio gli sta facendo vedere e questo è importante riflettere su questo perché ancora oggi può avvenire avviene in questa maniera quando Dio dà delle visioni a qualcuno capite quindi è bene riflettere anche su questa parola estasi che vuol dire ratto di mente cioè il rapimento della mente che opera in Dio e tu vivi un'altra cosa vedi cose che non sono quelle reali che vivi che sono attorno a te ma Dio ti fa vedere delle cose ad esempio può farti vedere attenzione qui si parla di rapimento della mente perché è importante anche puntualizzare perché Paolo dice nella seconda epistola ai Corinzi dice che fu rapito e lui non sapeva se era stato fu rapito in cielo al terzo cielo lui non sapeva se era stato rapito con il corpo o senza il corpo quindi può avvenire vedete il rapimento solo dell'anima il rapito cioè Dio prende l'anima dal corpo il corpo rimane sulla terra e l'anima viene portata in cielo o dove Dio vuole farla visitare ci sono le anime che hanno visitato anche l'inferno che hanno visitato il paradiso capite però attenzione questo rapimento può avvenire anche con il corpo non solo l'anima perché se avviene il rapimento dell'anima per un momento per un periodo di tempo e poi dopo ritorna dentro il corpo quando c'è il rapimento dell'anima ma questo il rapimento può avvenire anche anche con tutto il corpo quindi corpo e anima possono essere presi da Dio e portati in un altro luogo anche in cielo capite mentre a Pietro cos'era successo no a Pietro era successo solo un rapimento di mente solamente la sua mente era stata presa per fargli vedere determinate cose capite quindi bisogna conoscere bisogna riflettere su tutte queste distinzioni di cose perché perché ci serve sapere queste cose perché quando noi abbiamo un'esperienza oppure altri ci raccontano le esperienze vissute noi dobbiamo essere in grado di ricondurle alle sacre scritture ai passi delle scritture perché se non se non può quello che le persone ci dicono se io non riesco a inquadrarle secondo le scritture soprattutto quando si tratta di rivelazioni bisogna stare attenti capite se non riesco a inquadrarle secondo le scritture allora bisogna fare attenzione perché potrebbero non essere vere capite potrebbero non essere vere quindi bisogna fare attenzione essere prudenti crediamo nella potenza di Dio nelle manifestazioni potenti di Dio ma non è che siamo creduloni siamo credenti ma non creduloni e dobbiamo essere prudenti quindi torniamo al racconto che sta facendo Pietro a quelli ai giudei io ero nella città di Iope in preghiera e in un'estasi ebbi una visione una certa cosa simile vedete la visione mentre i sogni sì il Dio può darci dei sogni quando stiamo dormendo nel nostro letto capito o comunque dormendo da qualche parte stai dormendo e Dio ti dà un sogno ma quando sei quando sei sveglio e Dio rapisce la tua mente per farti vedere qualcosa quella è una visione quindi quando sentite ponete mente perché dovete capire che cosa è una visione secondo le scritture perché se voi imparate se voi capite come usa c'è il significato della parola visione secondo le scritture vi rendete conto che molti usano la parola visione per motivi diversi da quelli che sono scritti nella parola e quindi noi comprendendo l'uso sbagliato che fanno di questa parola comprendiamo che non sono da Dio capite almeno in quel discorso che stanno facendo non è da Dio perché stanno dicendo una menzogna cioè ad esempio ah dobbiamo seguire la nostra visione cioè loro vogliono intendere il modo di vivere il cristianesimo il modo di vedere determinate cose capite lo dobbiamo raggiungere lo dobbiamo fare loro non intendono nella una rivela non intendono visione come quella che è successa a Pietro cioè la sua mente in un attimo è stata rapita e Dio gli ha fatto vedere determinate cose per dargli un messaggio non la intendono in questa maniera ma lo intendono in altri modi e dobbiamo capire bene è necessario capire bene cosa è cosa si intende secondo le scritture con la parola visione perché questo serve per ascoltare e comprendere quando uno parla ed è da Dio oppure no capite quindi quando cominciano a sbagliare a parlare con la parola visione significa che hanno dei gravi problemi per quanto riguarda sia la fede nelle rivelazioni di Dio ma diciamo non hanno o non hanno capito o non ci credono è più probabile il fatto che non ci credano non hanno capito basta che studiano ci sono anche tante spiegazioni non solo quelle false ci sono anche spiegazioni vere sul web basta studiare se uno ha dei dubbi studia o crede comunque a quello che è scritto e viene a conoscere cosa vuol dire visione quindi se la usano in maniera sbagliata la parola visione voi guardatevi da queste persone state lontani non dategli credito perché perché non sono guidati dallo spirito santo non sono non parlano da parte di Dio ecco ora dopo che vi ho messo in guardia contro queste cose continuiamo la nostra lettura allora ebbe una visione una certa cosa simile a un gran lenzuolo tenuto per i quattro capi scendeva giù dal cielo e veniva fino a me ed io fissatolo lo considerai bene e vidi i quadrupedi della terra le fiere i rettili e gli uccelli del cielo e udì anche una voce che mi diceva Pietro levati ammazza e mangia ma io dissi in nio modo signore poiché nulla di immondo o di contaminato mi è mai entrato in bocca ma una voce mi rispose per la seconda volta dal cielo le cose che Dio ha purificate non le far tu immonde e ciò avvenne per tre volte poi ogni cosa fu ritirata in cielo ed ecco che in quell'istante tre uomini mandatimi da Cesarea si presentarono alla casa dove eravamo e lo spirito mi disse che andassi con loro senza farmene scrupolo or anche questi sei fratelli vennero mecco ed entrammo in casa di quell'uomo ed egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto manda a Iope e fa chiamare Simone soprannominato Pietro il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua ora mi fermo qui perché io vi ho detto già da subito che benché l'angelo si manifestò a a Cornelio anche se parlò diciamo la scrittura l'angelo parla bene di Cornelio lo loda per certi versi per le sue opere io sapevo già che Cornelio non era salvato né lui nella sua casa perché c'era scritto più tardi e lo dice qui dice appunto vedete dice manda Iope fa chiamare Simone soprannominato Pietro il quale ti parlerà qui è l'angelo che sta parlando a Cornelio Pietro ti parlerà di cose per le quali sarai quindi non sei salvato ma sarai salvato tu e tutta la tua casa capite quindi Cornelio è confermato sempre dalla scrittura che quando l'angelo gli parlava non era salvato ma è stato salvato solamente dopo che Pietro gli ha annunziato Gesù la storia di Gesù di Nazareth e gli ha annunziato l'angelo capite solo dopo il messaggio di Pietro Cornelio e quelli della casa sua sono stati salvati perché ribadisco ancora si viene salvati solamente per mezzo della fede nell'evangelo nel messaggio dell'evangelo non si viene non si può essere salvati per mezzo delle opere capite le opere non salvano quello che salva è la fede nel sacrificio che è stato compiuto da Gesù Cristo sulla croce a questo proposito leggiamo in Efesini in Efesini capitolo 2 versetto 9 è scritto allora leggiamo dal versetto versetto 8 2 8 Efesini poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori perché noi siamo fattura di lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo quindi Dio è vero vuole che le opere buone siano praticate ma la salvezza non si ottiene per le opere prima si ottiene la salvezza per mezzo della fede nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto e nella sua resurrezione poi il Dio ci mette davanti le opere che dobbiamo compiere e noi le dobbiamo compiere quindi le opere sono importanti ma non non sono legate alla salvezza più che altro le opere sono una manifestazione di quella fede che noi abbiamo ottenuto quando siamo stati salvati capite le opere sono più una manifestazione della fede però quello che salva è la fede si viene salvati per mezzo della fede ed è un dono che Dio dà a coloro che sono scritti nel libro della vita perché Dio salva chi vuole e ha misericordia di chi lui vuole avere misericordia quindi siamo arrivati per terminare la lettura della storia che sta raccontando Pietro ai giudei e disse senza farmi dire mi ricordai ecco questo è importante terminiamo con queste parole e come avevo cominciato a parlare quindi dopo che Pietro ha raccontato che anche un angelo si era presentato davanti a Cornelio gli avevo detto di andare a chiamare a Pietro gli avrebbe annunziato le cose per il quale sarebbe stato salvato dice anche qui e come avevo cominciato a parlare lo Spirito Santo scese su loro come era sceso su noi da principio quindi qui c'è ancora una conferma ancora anzi leggiamo ancora perché la conferma ancora più forte mi ricordai allora della parola del Signore che diceva Giovanni ha battezzato con acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signor Gesù Cristo chiero io da potermi opporre a Dio e se allora udite queste cose si acquetarono e glorificarono il Dio dicendo il Dio dunque guardate la conclusione dei Giudei dopo tutto questo racconto dei Giudei che erano a Gerusalemme che era il centro dei credenti la prima chiesa era a Gerusalemme ed era composta essenzialmente da Giudei e questi questi avevano capito questo dalle parole di Pietro il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita e non è stato un percorso facile quello che i Giudei accettassero che la salvezza per mezzo della fede fosse data da Dio anche ai gentili capite è stato un processo che ha dovuto maturare nei Giudei e tutte queste cose sono scritte appunto per ammaestrarci per farci sono accadute e sono state trascritte affinché noi comprendiamo che i Giudei avevano a loro ma qualcuno magari può avere ancora delle problematiche con i gentili ancora oggi ma un'altra cosa che volevo farvi notare era appunto questo che Pietro dice che lo Spirito Santo che è sceso sopra Cornelio e quelli di casa sua che erano gentili era la stessa esperienza che loro avevano e viene quindi confermata che loro avevano ricevuto il giorno della Pentecoste capite infatti cita le parole di Gesù perché vedete rivolta agli apostoli guardate cosa disse Gesù Gesù agli apostoli e gli disse queste parole atti 1 5 disse mentre Gesù parlava agli apostoli dopo che Gesù risuscitò parlò agli apostoli e gli disse queste parole poiché Giovanni battezzò sì con acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni infatti accadde che il giorno della Pentecoste furono battezzati con lo Spirito Santo i circa 120 che erano giudei ma quello stesso messaggio Pietro lo gira anche nei confronti dei gentili di Cornelio e di quelli dei suoi parenti di tutti quelli che erano presenti quando scese lo Spirito Santo su di loro Pietro dice infatti mi ricordai allora della parola del Signore che diceva Giovanni ha battezzato con acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo quindi Pietro sta collegando la stessa esperienza ricevuta dagli apostoli l'hanno ricevuta anche Cornelio e tutti quelli della sua casa e siccome la somma della parola ci insegna che il battesimo con lo Spirito Santo è una promessa ancora per oggi eh badate bene il dono dello Spirito Santo del riempimento di spirito traboccante che porta a parlare in altre lingue questa promessa di Dio è che è stata fatta anche per oggi cioè vale fino a quando la perfezione non sarà venuta la perfezione verrà solamente quando tornerà il Signore Gesù Cristo quindi fino alla sua al suo ritorno fino all'avvenuta del Signore Gesù Cristo quindi fino ad allora questa promessa così come anche sono operanti tutti i doni di ministerio tutte le rivelazioni di Dio che sono scritte nella parola possono ancora oggi verificarsi secondo la volontà di Dio naturalmente non secondo la volontà dell'uomo ma secondo la volontà di Dio quindi anche questa promessa vedete con il parlare in altre lingue che hanno ricevuto Cornelio e tutti quelli della casa sua è una promessa che vale ancora oggi per tutti i credenti per tutti coloro che sono stati salvati e sono nati di nuovo non è per gli increduli perché gli increduli non conoscono lo Spirito Santo mentre i credenti che sono stati salvati perché lo Spirito Santo li ha rigenerati spiritualmente lo Spirito Santo ha operato in loro abita nei credenti ecco per i credenti ed è un'esperienza diversa separata distinta dalla salvezza la rigenerazione spirituale compiuta dallo Spirito Santo è un'esperienza diversa dal battesimo con lo Spirito Santo in una nella prima nella nuova nascita ad opera dello Spirito Santo si nasce di nuovo e si viene salvati per quanto riguarda la salvezza non c'è bisogno di niente altro mentre l'esperienza del battesimo con lo Spirito Santo con quell'esperienza si riceve la potenza per essere efficaci nel servire il Dio in mezzo alla Chiesa capite quindi ricevere potenza non è la stessa esperienza di essere salvati capite quindi chi è salvato ha una misura di Spirito ha lo Spirito dentro di lui ma non ha la pienezza per quello che si parla di pienezza dello Spirito Santo perché ci può essere una misura che non è piena di Spirito dentro qualche credente però per fare di un peccatore un credente ci vuole che dentro di lui entri lo Spirito Santo rigenerandolo spiritualmente quindi in tutti i credenti è presente lo Spirito Santo ma non in tutti i credenti è presente il battesimo con lo Spirito Santo ecco perché è una esperienza diversa separata dalla salvezza capite che però il battesimo con lo Spirito Santo non riguarda la salvezza ma riguarda il servizio con potenza nella Chiesa che viene compiuto da chi riceve questa esperienza e questo era il messaggio che oggi ho avuto in cuore di portarvi a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén